Partiamo dal presupposto che noi abbiamo, secondo me, secondo anche il direttore sportivo della società, abbiamo costruito un grande gruppo, abbiamo costruito una squadra importante con giocatori importanti, sia in quelli che sono stati impiegati di più, sia quelli che oggi hanno trovato meno spazio, ma piano piano lo troveranno. Secondo me, come numero e come qualità e quantità dei giocatori, siamo messi bene. Poi, se ci dovesse essere la possibilità di fare qualche operazione a dicembre, giustamente, anche su indicazione del mister, poi lo saprà meglio Paolo in queste circostanze, la società è pronta e non si tirerà mai indietro se c'è da fare qualcosa in più per agevolare e per migliorare questa squadra, che però, ripeto, questa è una squadra fatta di grandi uomini e di grandi giocatori. C'è un equilibrio bellissimo all'interno dello spogliatoio e rischiare di andare a intaccare, forse il mister Izzotti lo sa meglio di me perché è uomo di spogliatoio, rischiare di intaccare un equilibrio all'interno dello spogliatoio si rischia di fare più danni che benefici. Questo che vuol dire che se dobbiamo operare, dobbiamo operare con testa, con coscienza e noi effettivamente puntiamo anche a vedere se ci sono in giro giocatori e calciatori che possano fare al caso del Teramo, non in questa singola stagione, ma anche per più stagioni. Faccio un esempio, noi abbiamo una squadra molto giovane, se vedevate la distinta ieri, abbiamo molti 2003, 2004, 2005, 2002, 2001, 2000, abbiamo una squadra molto giovane perché è una squadra di prospettiva, abbiamo lavorato sia per quest'anno che per il prossimo. Se pensiamo alla difesa che abbiamo schierato ieri, al di là di Pepe che è il nostro uomo di esperienza di ieri, ma avevamo Cipolletti che è un 2001, abbiamo Furlan che è un 2003, abbiamo Cutilli che è un 2004 in mezzo al campo, Massarotti un 2002, quindi abbiamo Ture un 2000, abbiamo giocatori Sanseverino un 99, diciamo che è giovane anche lui, quindi abbiamo una squadra abbastanza giovane. Però ripeto, qualche cosa sicuramente, probabilmente faremo, perché anche numericamente purtroppo abbiamo avuto l'infortunio di Cangemi che purtroppo se lo portiamo avanti per un altro periodo, se dovesse capitare qualche altro infortunio o qualche altra cosa, sappiamo che dobbiamo lavorare su qualche qualche giocatore da prendere, però ripeto. Ose si sa qualcosa piuttosto sulle sue condizioni? Ose si sa una forte contusione con distorsione della caviglia, anche lui dovrebbe essere non prima di un mese, oggi, ieri ha fatto i raggi e tutto quanto, oggi aveva le visite, ancora non mi è stato riferito, quindi i tempi di recupero saranno stabiliti nei prossimi giorni, ma si ipotizza intorno ai 25-30 giorni di stop per lui, tra recupero dall'infortunio e poi rientro in forma. Ci dispiace molto perché Ose si stava facendo molto bene, in questo momento era entrato benissimo in condizione, sia con il gol in Coppa Italia mercoledì, sia i primi 20 minuti che ha giocato molto bene la partita. Non dimentichiamo che Ose si è arrivato e ritiro da noi con 12 giorni di ritardo, perché noi siamo partiti il 22 luglio e lui era arrivato il 2-3 agosto, quindi si è portato per tutto questo tempo una condizione che non era al pari degli altri. Inoltre, il ragazzo è la sua, diciamo, prima esperienza in Italia, perché l'anno scorso ha giocato da gennaio ad aprile a Migliani con promozione, dopodiché è tornato in Argentina, quindi ha dovuto tornare qui in Italia con noi. Cimentarsi con un campionato diverso e un po' di ambientamento ci vuole, si allena bene, è sempre un ragazzo serio e ci dispiace per questo piccolo stop che dovrà subire perché stava entrando in condizione, è un'ottima alternativa lì davanti per dare respiro anche qualche volta a Touré, come è stato fatto per esempio domenica, o a De Giglio eventualmente, insieme a Re, insieme a Mercato, anche Mercato adesso è entrato in condizione e ogni volta che entra in campo fa il massimo e ultimamente ogni volta che entra segna, quindi è diventato quasi un jolly per noi.